Ciao, sono Fabio Stevivo e sono veramente felice di interpretare un ruolo così importante nel film La Grande Guerra del Salento che è quello di Antonio, un ragazzo brillante, giovane, lavorioso, ma anche una persona che ha dovuto sin da subito fare i conti con la durezza della vita, con le difficoltà della vita, è orfano di padre, è una persona che ha grande voglia di darsi al prossimo. Che metterebbe anche a repentaglio la propria persona pur di far star bene gli altri. E sono felicissimo di aver vissuto questa grande esperienza con le maestranze, con il regista e tutto quello che c'è dietro a questo grandissimo, piccolo, grande progetto che è La Grande Guerra del Salento. Presto al cinema, da marzo. Fabio Stevivo, grazie.